Ehi Jensen, Sarif mi ha avvertito che stavi arrivando. Vedrai che Aengsha ti piacerà. Ci sei già stata? Vivevo da quelle parti. Ho lavorato tre o quattro anni nella città alta. E quando calava la sera, mi divertivo nella città bassa. Sei pronto a partire? Credo di sì. Quanto tempo ci vorrà, Malik? Parli del volo o della vacanza pagata? Non preoccuparti. Arriveremo in men che non si dica. Salta su. Grazie a tutti. 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 Bell Tower. Grazie a tutti. 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 Ma che cazzo è che blocca l'ascensore? Non ne ho idea signore Ma cerca di scoprirlo Quell'ascensore deve restare sempre libero Il nostro specialista deve salire quassù il prima possibile per violare questo computer Agli ordini signore Grazie a tutti 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 Arrestarlo Grazie a tutti Grazie a tutti Non potevo chiedere di meglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti